Buongiorno, buongiorno a voi. Ci troviamo così in un orario un po' inusuale per me. Però siccome stamattina leggevo sui giornali, ascoltavo i radiogiornali per quanto riguarda insomma un po' il tema di autostrade, la società che gestisce gran parte della rete autostradale del nostro paese, così per intenderci i Benetton, no? È evidente che tutti quanti dopo quello che è successo un anno fa a Genova abbiamo subito detto, pensato e chiesto che fosse tolta la concezione ad autostrade e ai Benetton, perché era il minimo di fronte ad una tragedia, una tragedia immane che è costata la vita a 43 persone. Poi però bisogna tornare alla realtà ed essere realistici, essere pragmatici. Ora la cosa fondamentale, quello che conta è la sicurezza dei cittadini che viaggiano sulle strade italiane. Questo credo che sia una cosa prioritaria, che possono viaggiare in sicurezza. E allora, guardiamo un attimino qual è lo scenario. Adesso sappiamo che probabilmente così lasciare fuori dai giochi autostrade e i Benetton non è la cosa più semplice del mondo. Ma perché non è la cosa più semplice? Perché non esistono alternative. Ora tutti quanti parlano del fatto di Dianas, di dare le concezioni ad Anas, quando poi se andiamo a vedere è come cadere un po' dalla padella alla braccia. Perché io vi do solo un dato, non so quanti ne sono al corrente, che il ponte che è caduto all'altezza di Aulla, tra Liguria e Toscana, era gestito, non da molto tempo, ma era gestito da Anas. E Anas aveva ricevuto, anche da parte delle autorità locali, moltissimi solleciti per fare controlli, perché c'erano dei segnali che così dimostravano che esistevano dei problemi. E malgrado questo Anas non l'ha fatto, o l'ha fatto in maniera non adeguata, tanto che questo ponte è crollato. Qual è la differenza fra il ponte Morandi e il ponte che è caduto ad Aulla. Le differenze sono queste, che il ponte caduto a Genova nel mese di agosto, in un mese anche così dove molta gente stava andando in vacanza, ha fatto sì che purtroppo 43 persone trovassero la morte, ci sono state 43 vittime. Mentre il ponte caduto ad Aulla non ha registrato vittime, semplicemente perché ci trovevamo nel bel mezzo del lockdown. Ma è solo questa la differenza, cioè quindi fortuna, casualità, ma il fatto di aver lavorato malissimo, di non aver fatto manutenzione, è la stessa cosa. Quindi adesso cosa facciamo? Ok, diciamo anche per ragioni di carattere morale in fondo che ci stanno via i Benetton. Ma chi diamo la gestione di gran parte delle autostrade in Italia? Ripeto, all'unico interlocutore disponibile in questo momento Anas? Purtroppo direi proprio di no. Ora, il problema vero sono le regole, le regole di ringaggio tra lo Stato e il concessionario al quale viene dato la concessione delle autostrade italiane. Questo è il vero problema, ma lo era già precedentemente al crollo del ponte Morandi, dove semplicemente il contratto lasciava totalmente piena libertà ai privati. E' questo che è inaccettabile, anche da un punto di vista dei controlli. Ora, noi dobbiamo essere anche onesti nel dire le cose. Autostrade e i Benettoni in questo anno si sono molto adeguati a livello manageriale e questo è un dato di fatto che è facilmente controllabile. Molti di questi manager sono stati mandati via, ne sono stati assunti altri, si è adeguata la struttura, quindi realmente io devo dire per quello che si può vedere, autostrade ha migliorato la propria struttura, ha preso dei provvedimenti. Chi non ha assolutamente preso provvedimenti è lo Stato, è il Ministero dei Trasporti, per nome di quella chiaccherona che è la De Michelis, perché questa è semplicemente una chiaccherona che di fatti ne ha fatti pochissimo, infatti non ha adeguato la struttura, assumendo ad esempio ingegneri. Ci vorrebbero almeno 900.000 ingegneri in questa struttura e nulla è stato fatto. Questo per controllare il concessionario. Il lavoro del concessionario va controllato, non si può semplicemente lasciare sulla fiducia a lui la gestione dell'intera rete autostradale in Italia. Questo è il vero problema. Tra l'altro grande demagogia da parte di tutti i partiti in maniera trasversale nel pretendere il fatto che vengono cacciati i Benetton. Allora diciamo che sono due cose differenti. Da un lato assolutamente, e qualcuno deve rispondere di quello che è successo al Ponte Morandi, ma credo anche lo Stato deve risponderne. Lo Stato non può chiamarsi fuori. La De Micheli, Stolinelli e quant'altro non possono addossare le colpe solamente ad autostrade ai Benetton, perché anche loro, ripeto, a livello di controllo non hanno fatto nulla e quindi debbono assumersi le loro responsabilità. E il secondo passo è la domanda che dobbiamo porci. Abbiamo delle alternative in questo momento? A me sembra proprio di no, perché se l'unica alternativa è ANAS, abbiamo visto, ve l'ho dimostrato, del lavoro che ha fatto ANAS e purtroppo anche da questo punto di vista i controlli sono stati deficitari, le somme stanziate per la manutenzione sono inadeguati, i controlli sono inadeguati. Questa è la riflessione che noi dobbiamo fare di fronte ad un problema gigantesco, dove non si può solamente fare demagogia. Fumo negli occhi agli italiani? Sì, puniamo i Benetton, è giusto che li puniamo. Ci sarà la magistratura che stabilirà le responsabilità, che sicuramente ci sono, ma ci sono anche da parte dello Stato. Sul resto bisogna cercare di essere pragmatici e soprattutto di fare delle scelte che siano delle scelte che vadano nell'ottica della sicurezza e che garantiscono agli italiani di viaggiare in maniera sicura sulle autostrade italiane. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona mattinata e ci sentiamo nel pomeriggio.